Vediamo quali sono le regole più importanti da seguire per pubblicare un articolo secondo le regole si o se, ho detto in italiano, che sono state codificate dallo stesso Google se si ha un blog sulla piattaforma Blogger. Dunque, per prima cosa bisogna essere sicuri di aver impostato le cosiddette preferenze di ricerca. Si va quindi su impostazioni, qua giù, impostazioni, preferenze di ricerca, qui deve essere, la descrizione deve essere stata impostata, vuol dire, si va su modifica, bisogna avere la flag sul sì, su abilitare le descrizioni della ricerca, sì. E qui ci vuole una breve descrizione del blog, ora questo è un blog di testo, ho messo una descrizione brevissima. Voglierebbe avere un massimo di 150 caratteri, non importa arrivare fino a 150, però un centenario di caratteri per dare una definizione piuttosto esaustiva del tipo di contenuti del blog è opportuno. Quando si è fatto questa operazione e sono salvate le impostazioni, nel momento in cui si va su post e si pubblica un articolo, adesso qui c'è una bozza, qui sulla destra vedremo una nuova opzione che si chiama descrizione della ricerca, che vedremo come funziona successivamente. Dunque, il post è, diciamo, costituito da vari elementi. Il primo elemento, molto importante, è il titolo. Il secondo elemento è il corpo del post, vorrà dire tutto i contenuti, contenuti testuali. Il terzo elemento sono i contenuti media, soprattutto le immagini, o anche i video. Il quarto aspetto sono i link. Il quinto aspetto è la descrizione della ricerca. Allora, cominciamo con il titolo. Il titolo deve essere, innanzitutto, un titolo che, visto che è quello che si vede quando si fanno delle ricerche su Google, bisogna che sia scritto in un italiano corretto. Non si può scrivere, magari, una frase mettendo insieme delle parole chiave senza significato. Quindi, in questo caso, l'applicazione di Chromecast, disponibile su Google Play, anche in italiano, potrebbe andare bene. Si potrebbe anche scrivere così. Chromecast Qual è il senso del discorso? Il titolo è che bisogna cercare di mettere sulla sinistra le parole chiave più importanti e inserire nel titolo più parole chiave possibili, senza, chiaramente, oltrepassare la lunghezza del titolo standard, che dovrebbe essere di circa 70 caratteri, 70-80 caratteri. Perché non bisogna passarla? Perché, quando si va a fare delle ricerche, il titolo viene troncato dopo, appunto, quel numero di caratteri. Passiamo al corpo del poste. Dunque, la prima parte del poste, vi chiamiamola incipit, come se fosse un romanzo, è particolarmente importante perché è quella che legge il navigatore nel momento in cui apre la pagina. Da alcune statistiche si vede che circa il 60-70 o anche l'80% dei visitatori lasciano una pagina subito dopo pochi secondi che l'hanno aperta. Quindi, avere nel primo periodo, nelle prime frasi del poste, una prosa accattivante e attrattiva può essere importante per diminuire quella che si chiama frequenza di rimbalzo. Quindi, bisogna cercare, insomma, di impegnarsi per scrivere qualcosa, diciamo così, che possa colpire il lettore. Bisogna poi cercare di riportare le parole chiave più importanti del contenuto del poste senza esagerare perché un eccesso di parole chiave potrebbe essere penalizzato. Su Blogger c'è una cosa che a me personalmente dà piuttosto fastidio che è che, vedete, il testo rimane attaccato alle immagini. Quindi, si può andare su Invio per staccarle. Personalmente mi dà fastidio, invece così mi sembra esteticamente più valido. Poi, è tutta una questione... Cercare di dividere i periodi rende più semplice anche la lettura da parte dei visitatori. Un'altra cosa che, anche questa, secondo me, dovrebbe essere fatta è quella della giustificazione del testo. Se voi vedete in molti siti diciamo, si vede la parte destra del post è completamente diciamo così, fuori linea. Contrariamente a quello che avviene, per esempio, nella carta stampata in cui, invece, tutto il testo è perfettamente allineato ci vuole, basta un semplice clic e si va qui seleziona tutto si sceglie qui la giustificazione che è questo ultimo e automaticamente tutto il testo viene pareggiato sia sulla sinistra sia sulla destra Altro capitolo importante sono le immagini Dunque, le immagini è importante inserire in tutte le immagini il tag title e il tag alt oppure alt fate un po' voi questo serve per questioni SEO è particolarmente importante soprattutto il tag alt detto anche alternative test oppure testo alternativo che è quello che si vede quando il browser non riesce a aprire un'immagine si va così si dunque seleziona l'immagine si va su proprietà e qui si mette in testo del titolo è quello che si vedrà nel tag title e nel testo alternativo è quello che si vedrà nel tag alt o alt diciamo si può mettere anche la stessa la stessa frase in questo caso ho messo il chromecast si può mettere chromecast screenshot le varie parole chiave della immagine possono essere separate da una linetta oppure anche da un più dunque non conviene separarle con un underscore vale a dire con un segno così perché è come fosse una specie di algebra booleana nel senso che se noi si mette l'underscore se io qui si metto chromecast underscore screenshot è come dire che la parola chiave è sia chromecast però soltanto se insieme a screenshot mentre mettendo chromecast più screenshot oppure chromecast linetta screenshot vale a dire che la parola chiave è sia chromecast sia screenshot anche separatamente quindi c'è più possibilità di essere trovati dalle ricerche sulle immagini sono piccolezze ma proprio veramente piccolezze poi si va su ok e questo va fatto a tutte le immagini se si pubblica con Windows Live Writer si può fare automaticamente mediante anche il plugin screenshot per foto e questo è quanto poi andiamo di qua le etichette le etichette anche qua non è molto importante scegliere ma almeno una dobbiamo mettercela non credo sia più importante sia importante metterne due tre e quattro io credo che due due o tre siano sufficienti se posso mettere blocchi qui immagini e basta così secondo le ultime notizie diciamo che Google non dà particolarmente importanza alle etichette dà molta più importanza ai contenuti e al titolo poi lasciamo prendere questi va che sono delle cose eventualmente per se si vuole essere trovati dalla ricerca locale si mette l'ubicazione uno ha un'azienda magari in una certa località si mette l'ubicazione per essere trovati da le persone che fanno ricerche specifiche in quella d'altra località abbiamo abilitato la descrizione della ricerca qui dobbiamo metterci una breve descrizione della ricerca una breve descrizione del post che è una specie di riassunto del post questo è particolarmente importante perché sarà quello che verrà visto come snippet quando si condivide il post per esempio su Facebook adesso questo qui parla di Chromecast si può dire per esempio il Chromecast di Google ha una applicazione in italiano già disponibile su Google Play e si può aggiungere anche altre parole una cosa che mi sento di dover dire in questo caso non si può fare perché è molto difficile ma si può per esempio cercare di trovare dei sinonimi adesso Chromecast non ha un sinonimo ma se ci fosse stato un sinonimo di Chromecast si poteva mettere visto che nel titolo c'è questo qui si poteva mettere il suo sinonimo e così via quando si è completato la ricerca si fa completato e basta altra cosa fondamentale è il link si clicca sul link e si può fare il permalink automatico oppure personalizzato in genere il permalink personalizzato permette di mettere in ordine decrescente le parole chiave che noi riteniamo più interessanti se noi non lo mettiamo personalizzato sarà Google sarà Blogger a creare il permalink cioè la parte finale del link del post prendendo le prime parole separate da dei trattini in questo caso si può creare un permalink così Chromecast trattino Google Play trattino poi si può mettere Android visto che è su Android poi si può mettere anche streaming visto che è un streaming video poi si può mettere Wi-Fi e magari si può inserire si possono inserire anche altre parole chiave si va su completato a questo punto credo che diciamo il confezionamento del post secondo le regole SEO sia già completato e non resta che pubblicarlo magari un'altra volta vedremo quello che fare dopo aver pubblicato il post per rendere più attrattivo dai motori di ricerca di ricerca